Mi hanno fatto i trinni, mi sono fatto con l'Ordion, insomma, veramente... Che c***o... Quell'arma non mi sta sulle palle... Comunque altra arma me lo sarei... Hai uccito risotto nero, andremi... Restate in volo, raga, così vi fate le casse della sciacalla... Vabbè... Ok, grazie... Tanto vabbè, se te l'hanno presa così lontano... Credo che non usciano ormai tutti, quindi neanche... Vai via la lega... No, 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 no... C***o... Che s***a...